L'ho fatto perché mi sentivo di dare il mio contributo, invece per quanto riguarda Piazza Navona siamo proprio disperati perché il nostro pubblico è solo e esclusivamente turistico, quindi di conseguenza adesso come vedete non c'è niente, aspettiamo i turisti che si verranno e quando si torneranno, non abbiamo risorse, come vedete è aperto, sono i quali sono vuoti o se i locali ci pensano lavoro, sono tutti vuoti e quindi ripeto, l'abbiamo aperto proprio perché ci eravamo impegnati in questa iniziativa, altrimenti non avremmo neanche aperto e sicuramente se non cambia qualcosa, una volta esaurito queste prenotazioni, richiuderemo se non cambia qualcosa.